san prisca secondo un'antica tradizione prisca fu battezzata all'età di 13 anni da san pietro decapitata durante la persecuzione di claudio tiberio verso la metà del secondo secolo fu la prima donna martire in occidente il suo corpo fu sepolto nelle catacombe di priscilla le più antiche di roma prisca era proprietaria di una domus cristiana un'abitazione civile messa a disposizione degli apostoli e dei primi cristiani per riunirsi la sua abitazione venne poi trasformata in chiesa divenendo una basilica titolare della città cioè un oratorio domestico la chiesa di santa prisca che ospitò san pietro conserva nella cripta un capitello cavo usato dall'apostolo per battezzare i catecumeni